Si sta per sbloccare la situazione degli oltre 150 alloggi diffusi per gli studenti dell'Atene Aquilano e del Gran Sasso Science Institute da assegnare prima dell'inizio del prossimo anno accademico. Parliamo del collegio di merito Ferrante d'Aragona che vede insieme Comune, Ateneo e GSSI. Due i passaggi da fare a questo punto, la pubblicazione del bando di gara per gli arredi per rendere fruibili gli spazi che poi saranno messi a disposizione e poi la messa in campo vera e propria dei 162 posti letto entro settembre 2025 che saranno distribuiti da Pettino dove c'è la sede centrale e il centro storico. Lo sblocco dell'impasse dopo una rimodulazione del progetto con il Comune che è diventato soggetto attuatore, il luogo dell'Ateneo con 4,5 milioni di fondi restart già inseriti nel bilancio dell'ente. Un ritardo c'è stato in effetti per la rimodulazione del progetto ma già nell'ultimo consiglio, ha ricordato il consigliere Livio Vittorini, sono stati inseriti i primi 4,3 milioni del progetto, fondi essenziali per sbloccare la parte degli arredi necessari per assegnare i posti. L'obiettivo finale dei 600 posti si raggiungerà più in là intercettando altri finanziamenti. Giovedì ci sarà una prima riunione, ha spiegato il presidente del collegio Pierluigi De Bernardinis, per attribuire anche delle competenze necessarie in questa fase a un primo passo ma fondamentale per sbloccare il tutto e dare un'impronta importante al problema della residenzialità studentesca.